Ciao ragazzi, in questo momento non è solo me ma sono in call con Luca che è un ragazzo che mi ha contattato in seguito al primo gate che abbiamo fatto sul buon Luca Valori e mi ha mandato varie informazioni dicendomi sinceramente anche io mi sento di poter assolutamente aver diritto al rimborso perché? E ci spiegherà un po' che tipologie di servizi ha acquistato e perché non si è trovato soddisfatto del lavoro di Luca Valori, del servizio offerto da Luca Valori e del suo mitico braccio destro Giovele che abbiamo già avuto modo di conoscere. Intanto ciao Luca Ciao grazie mille, niente sì io ti ho contattato per ricevere questo rimborso diciamo se è possibile in quanto a luglio avevo acquistato il loro servizio da For You e attualmente quindi a marzo, fine marzo ancora non ho visto niente. Un servizio dove promettevano 10.000 euro nei primi 60 giorni però sono passati un po' più di due mesi. Allora intanto tu come ti sei avvicinato a questo servizio? Ma da Instagram, ho visto su Instagram questa pagina dopo ho contattato tramite Whatsapp e loro fanno tutto tramite Whatsapp che era una cosa un po' strana e me l'ha venduto tramite Whatsapp insomma. E hai parlato con Luca o hai parlato con Giovele o altri collaboratori? No Giovele, è solo Giovele. Ok e essenzialmente tu avevi la possibilità di ottenere un rimborso qualora non fosse stato rispettato quale patto questo dei 10.000 o qualcosa di più specifico? Io ho visto anche il contratto però insomma dillo un po' a tutti. No di 10.000 euro loro garantivano però la garanzia di Luca Valori che di portarmi da zero i primi 10.000 euro nei 60 giorni cosa che in realtà non si è mai verificata. Ok ma nello specifico tu che servizio hai acquistato? Di e-commerce, un servizio done for you dove creavano lo store, ricerca prodotto e tutto per me insomma. Ok quindi allora dici i propri passaggi, tu dopo aver parlato con collaboratori tra cui Giovele tramite Whatsapp quanto investi e che tipo di lavoro cominciano a fare e nel senso perché alla fine nulla si è concretizzato in termini economici? Compro il servizio di 4.500 euro del done for you e una volta comprato il servizio mi dicono che per procedere serviva un'ulteriore ricarica delle pubblicità Facebook dove all'inizio mi hanno chiesto 780 euro e poi altri 500 per questa pubblicità che non era mai stato anticipato nei 4.500 euro. Quindi in più oltre ai 4.500 euro. oltre però ormai che avevo comprato i 4.500 euro di servizio non potendo procedere ho pensato di pagare questi priori. Perché ti ho fatto già un grande investimento iniziale certo. Eh sì. Ovvio. Ok quindi dai anche questi altri soldini e che succede? Niente e dopo mi hanno inserito in un gruppo dove di questo done for you e dopo sono iniziate le scuse diciamo perché ogni scusa era buona per tirare avanti dei giorni, dei qualche mese e fino adesso... Ma scusa del tipo? Zero. Del tipo loro l'hanno buttato sull'intelligenza artificiale che ci mette un po' a ingranare con le pubblicità di Facebook e per quello ci vuole del tempo. Però quando ingrana i risultati arrivano, ne arrivano molti di più con meno budget a disposizione. Ma è che la cosa non... io non mi intendo però non mi sembra vera perché c'è troppo tempo. Ma tu quindi non hai mai avuto contatti con Valori? Cioè soltanto essenzialmente con Joeri o qua prendo il contratto che voglio leggere un po' di cosine? Con Luca Valori mai. Ok, tu vabbè hai sottoscritto un contratto, intanto c'è mia figlia che urla scusate ma questo è, contratto di servizi, ovviamente salto le parti sensibili, avendo oggetto consulenza marketing e marketing management, ok. La società bla bla bla, sede Dubai, ok, rappresentante legale del dottor Luca Valori, ah il dottore non lo sapevo, di seguito società, perfetto, cliente. Allora, il cliente intende acquistare il servizio online marketing della società, che il servizio acquistato comprende, servizio done for you, con creazione store, chiavi in mano. Bene. Team Valori International a disposizione totale del cliente, dove si occuperà di una singola fase. Ricerca prodotto, strutturazione store, cura del back-end, front-end, sviluppo del reparto SEO e blog all'interno dello store, pura grafica e delle relative creatività. Fino a qua ci siamo? Fino al punto 2? L'hanno fatti? Creazione dello store basta. Ok. Ricerca prodotto, creazione dello store, creative, io non ho mai visto un'inserzione, una pubblicità fatta da loro. Ok, poi ci abbiamo... In più, dopo poco tempo, lo store mi è stato anche disattivato. Quindi, loro hanno detto che era normale, però il vero motivo non lo so. Quindi con uno store disattivato io credo che non stia vendendo. Ok, C. Creazione, sviluppo, gestione e scalata delle campagne marketing attraverso sia Facebook che Google Ad. Ok, questo ce l'hai detto, cioè tu hai dovuto mettere ulteriori soldi. Oh, gruppo WhatsApp dedicato con Luca in persona all'interno. Cioè Luca all'interno però immagino non risponda. Magari ci sarai, non ho mai sentito parlare di Luca. Però qua sono stati bravi, perché hanno scritto con Luca in persona all'interno. Cioè effettivamente basta che sia all'interno, giustamente. E relativi tecnici per aggiornamenti giornalieri? Giornalieri però quando scrivevo per qualche problema rispondevano sempre dopo un giorno. Ok. Soprattutto quando gli chiedevo più informazioni tecniche per avere una motivazione che non stiano arrivando ancora a risultati. Tu mi hai detto, scusami, l'hai portato avanti questo per? Da luglio, quindi sette mesi. Sette mesi, ok. E ovviamente hai ottenuto zero. Zero, zero. In termine con uno. Zero, zero. Ok, cioè ci hai rimesso chiaramente. Rientro alla seguente collaborazione di un importo pari al compenso corrisposto al netto di qualsiasi spesa. E qui, tra parentesi, 4.500 euro. Quindi questa cosa no. Il 100% dei guadagni nei primi 60 giorni sarà incassato dal cliente. Dal terzo mese verrà fatta una riparazione previo accordo comune su una divisione del netto da ambe due le parti. È successo questo? 100% dei guadagni nei primi 60 giorni? No, perché non c'è stato un minimo guadagno. Lo faccio appositamente. Al termine dei 60 giorni ci sarà un corrisposto all'azienda del 30% al netto di ogni costo. L'identità del cliente verrà mantenuta riservata. Ok. Bene. Si stipula e conviene quanto segue. 1. La società si impegna a prestare i propri servizi in favore del cliente e far data dalla sottoscrizione del presente contratto e dalla ricezione del pagamento. 2. Il cliente riconosce alla società a titolo di corrispettivo per il servizio acquistato un compenso pari a 4.500 euro mediante bonifico bancario o le coordinate bancarie che saranno comunicate. 3. La società si impegna a svolgere la propria prestazione attraverso le best products attualmente conosciute nell'area dei servizi erogati. Buona fede e diligenza. Bene. Quindi possiamo dire che questo contratto non è stato rispettato lato loro? No, per niente. Anzi, proprio per niente. Bene. Allora, visto che ovviamente anche noi abbiamo tutelato l'identità del qui presente Luca, però è una citazione al maestro Luca Valori, sicuramente se, sto parlando alla Luca Valori International, a Gioele, a Luca che è un pochino più nelle parti irraggiungibili, anche se mi ha scritto su Instagram l'altro giorno, magari a tanti collaboratori che si possono occupare di queste piccolezze, giustamente. Questo ragazzo vorrebbe ottenere il rimborso, dato che, come abbiamo appena visto, è facilmente dimostrabile, ma penso che lo sappiate anche voi chiaramente, non ha ottenuto alcun tipo di risultato e quindi questo accordo deve essere in qualche modo rimborsato. Quindi sicuramente Luca vi riscriverà in caso di una vostra risposta positiva. Non lo so, Luca scrivimi su Instagram, scrivete qua sotto la live quando verrà ricaricata su YouTube, sotto il video specifico. Insomma, contattateci in qualche modo e vi indicheremo l'identità effettiva del buon Luca oppure vi contatterà direttamente lui. Speriamo bene, Lucone. Mi dispiace perché non sei l'unico che ci ha portato una testimonianza simile. Eh sì, purtroppo molto insoddisfatto. Bene, bene. Speriamo almeno che saranno di parola su questo e riusciranno a rimborsarti, dato che non sono stati in grado di fare quello che si erano promessi. Quindi poi, per carità, potrà capitare, dai. Insomma, un po' di mesi di, vogliamo dire, negligenza, però dai, magari riusciranno a rimborsarti. Speriamo, perché un po' troppo più mesi. Beh, sì. Ciao Lucone, grazie mille. Ciao, grazie mille.